Benvenuto! Pronto per una vacanza da favola? Logi Travel ti porta a Nelle Fiandre. Scopri uno dei luoghi più incantevoli d'Europa, circondato di storia autentica. Bruges, Anversa, Ghent, Bruxelles, Löwen e Meckle sono splendide città ricche d'arte, dove sbocciano sempre nuove idee. Visita Bruxelles, i suoi impressionanti edifici modernisti, i suoi parchi e il suo museo del fumetto. Scopri Bruxelles, una delle città più romantiche d'Europa. Lasciati avvolgere dall'atmosfera universitaria di Ghent. Visita la sua imponente cattedrale e le perle architettoniche sparse in città. Tra una visita e una scoperta, lasciati tentare dall'incredibile gastronomia di questa regione belga e addolcisci il palato con il cioccolato migliore al mondo. Sei convinto? Andiamo nelle Fiandre! Scopri le migliori offerte con logitravel.it Logi Travel I tuoi ricordi iniziano con noi.